Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale in apertura, quella che sembra la svolta nella questione della regolamentazione dei lavoratori stranieri nell'agricoltura e poi di colfe e badanti. Poco fa Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo e che sono state accolte le richieste del Movimento 5 Stelle, che il testo è stato migliorato e è stato messo al centro il lavoro regolare. Il Movimento 5 Stelle non voleva una sanatoria indiscriminata, anche il Ministro Di Maio questa sera ha ribadito che non voleva appunto una sanatoria per tutti, ma solo per coloro che stanno lavorando e per i quali sia stata fatta richiesta dai lavoratori. I lavoratori al centro, ha ribadito anche questa sera Di Maio, questa dovrebbe essere la svolta che sblocca finalmente il cosiddetto decreto rilancio che era pronto già tre giorni fa, ma poi si è arenato proprio sulla questione della regolamentazione dei lavoratori stranieri. Si parla di circa 500 mila persone che lavorano prevalentemente nell'agricoltura. Per quello che riguarda invece la questione economica, il sostegno alle imprese, alle famiglie, il decreto era pronto, c'è una copertura di 55 miliardi, dei quali 3,25 saranno per la sanità, lo ha detto il Ministro Speranza questa sera, per l'assunzione di 9.600 nuovi infermieri e per aumentare i posti in terapia intensiva. Quindi questo decreto che si trascinava ormai da tre giorni finalmente potrebbe vedere la luce. Intanto tornano a crescere i contagi da coronavirus in Italia, soprattutto in Lombardia. Oggi sono stati 1.402, il doppio rispetto a ieri, anche se c'è da dire che sono stati calcolati 400 nuovi casi che erano rimasti fuori dai conteggi precedenti. Ci sono cessati 172 morti. Il totale delle vittime del coronavirus in Italia è arrivato a 30.911, sono più di 2.500 i guariti, calano i ricoveri, soprattutto in terapia intensiva siamo ormai sotto quota mille. Se questi numeri non torneranno a salire, nei prossimi giorni finalmente arriveranno. Le linee guida le rilascerà il governo alle regioni per le riaperture di molti esercizi, i ristoranti, i barri, i negozi e si sta lavorando anche per gli stabilimenti balneari. Appunto tra giovedì e venerdì arriveranno queste linee guida che sono state messe appunto anche dall'INAIL, però non mancano le proteste soprattutto dei ristoratori che ritengono improponibile che per ogni cliente in un ristorante ci debbano essere 4 metri quadri. Vedremo come svilupperà questa vicenda, se appunto i numeri in casa nostra resteranno addirittura di discesa, mentre nel mondo non dappertutto le cose stanno andando bene. In totale fino ad oggi la pandemia ha ucciso 290.000 persone, 81.000 solo negli Stati Uniti dove i casi continuano a crescere, ma non va bene neanche in Russia dove ci sono più di 240.000 casi di contagio e la malattia è arrivata molto vicino a Vladimir Putin. Dopo la Casa Bianca il virus è arrivato anche al Cremlino. A Mosca è stato ricoverato Dimitri Peskov, portavoce di Putin, risultato positivo al Covid assieme alla moglie. A Washington invece nella West Wing dove c'è lo studio vale, vige l'obbligo di indossare la mascherina dopo il contagio di un collaboratore del presidente e della portavoce del vicepresidente Pence che infatti per precauzione non può incontrare Trump. È la rappresentazione plastica delle difficoltà in cui versano le due superpotenze. Gli Stati Uniti viaggiano verso quota 1.400.000 contagi, il record mondiale, ma al secondo posto c'è la Russia dove ci sono oltre 230.000 casi, la metà dei quali concentrati a Mosca, anche se almeno ufficialmente il tasso di mortalità resta molto basso. Ed ora il paese si chiede se ultimamente Putin sia entrato in contatto con Peskov, il quale ha assicurato di non vedere da oltre un mese il suo capo, che dal primo aprile in effetti è in auto isolamento, violato oggi per incontrare Igor Sekin, numero uno di Rosneft, principale compagnia petrolifera del paese. Putin ieri ha annunciato il graduale allentamento del lockdown e anche Trump scalpita per far ripartire l'economia. Ma oggi Fauci, il virologo numero uno del paese, ha lanciato l'allarme. Riaprire troppo presto potrebbe peggiorare la situazione e l'epidemia tornare fuori controllo, provocando un'ondata di morti e sofferenze inutili, anche perché per il vaccino ci potrebbero volere uno o due anni. Torniamo in Italia, torniamo a parlare di Silvia Romano, tornata a casa da soli due giorni. È stata travolta da un'onda di commenti negativi e intrisi d'odio, al punto tale che la Procura di Milano ha aperto una inchiesta. Oggi la giovane è stata sentita dai magistrati. Intanto la Procura di Roma continua a indagare su quello che è accaduto in Africa, sui tabulati che sono stati forniti dal governo di Nairobi. Si sta lavorando per cercare di capire se è possibile ricostruire la rete di fiancheggiatori e di sequestratori che l'hanno portata via dal piccolo villaggio dove lavorava come cooperante. Silvia Romano oggi è stata ascoltata per più di un'ora in Procura a Milano. I magistrati dell'antiterrorismo hanno aperto un fascicolo contro ignoti per minacce aggravate contro la giovane milanese. Dopo 18 mesi di prigionia, ora Silvia Romano deve combattere anche contro chi insulta col suo abito verde e la minaccia di morte. Impiccate l'ha scritto un ex assessore leghista del comune di Asolo, Treviso, e non è l'unico messaggio minatorio. Ci sono anche dei volantini acquisiti dagli inquirenti ai quali oggi Silvia Romano ha detto sono serena. Poliziotti in borghese vigiliano sotto la sua abitazione nel quartiere Casoretto. Per tutelarla è stato deciso anche di chiudere il suo profilo Facebook. A Roma fa i primi passi l'inchiesta principale che deve far luce sul sequestro. I ROS dei carabinieri stanno analizzando i tabulati telefonici che gli inquirenti hanno ricevuto la scorsa estate dai colleghi del Kenya, dove Silvia Romano è stata sequestrata il 20 novembre del 2018 per poi essere portata in Somalia. Si cerca di risalire ai mandanti a partire dai cellulari degli otto componenti della banda che l'hanno portata via dal villaggio di Chakama, dove lavorava come volontaria per la Ollus Africa Milele. Gli investigatori italiani partono da un'idea che tutto fosse già organizzato da tempo dagli jihadisti somali di Al-Shabaab, un sequestro su commissione. Silvia Romano probabilmente era già seguita mentre lavorava per quella Ollus di cui la madre ora dice l'hanno mandata laggiù allo sbaraglio. Gli investigatori cercano di capire se qualcuno in quel villaggio l'abbia tradita. Era questa l'ultima notizia di questa edizione della Notte del Telegiornale. Domani mattina tutti gli aggiornamenti dalle 7 in poi. Arrivederci e buonanotte.